Dopo due anni di vendemmia anticipata, quest'anno, in maniera fisiologica, le aziende vitivinicole stanno iniziando in questi giorni a vendemmiare le uve per i vini fermi dopo aver raccolto le uve da spumante nelle settimane passate. E a dispetto di un dato nazionale che mette il segno meno davanti alle quantità, con percentuali che variano dal 10 al 15%, in controtendenza le regioni del centro Italia invece tengono bene rispetto alla nata record del 2018 che segnò 1.600.000 quintali. Abbiamo già raccolto le basi spumanti ma adesso iniziamo a raccogliere i chardonnay sauvignon quindi siamo ritornati nei canoni standard della vendemmia di settembre. A livello di maturazione adesso è ottimale nel senso che abbiamo delle belle giornate assolate però la temperatura rispetto a una settimana fa è calata quindi anche le escursioni termiche notturne sicuramente porteranno a livello organolettico e olfattivo degli aromi positivi per il vino finito. Abbiamo dei bei Benchelli in vigna, abbiamo dei bei Sangiovesi, abbiamo dei bei Montepulciani. È chiaro che se parliamo di Montepulciano andremo a raccogliere l'ottobre probabilmente quest'anno quindi molto presto fare un'analisi però tendenzialmente sembra con le dita incrociate un'annata decisamente positiva. Se le quantità non sono da record però viceversa la qualità del prodotto sarà alta ma cosa ci troveremo in bicchiere con queste prerogative meteo permettendo naturalmente? Dipenderà sempre da che tipo di bottiglia avremo di fronte quindi se un siamo nel Bianchello parliamo di Bianchello quindi se è un tradizionale un superiore però sicuramente avremo delle caratteristiche buone diciamo di un'annata di grande equilibrio quindi tra le parti morbide e le parti diciamo di freschezza di acidità quelle che le rendono vivi magari molto differenti dall'annata che abbiamo avuto prima 16-18 annate molto fresche che hanno stentato ad uscire mentre invece l'annata 2-17 pronta da subito. Questa qui sarà un'annata abbastanza equilibrata poi la troveremo la vedremo in bottiglia quello che dimostrerà se sarà in un tempo medio lungo oppure in un tempo più lungo sicuramente non in un tempo immediato come la 17. Da sommelier sarà un'annata questa da mettere da parte o da o da consumare pronti via? Qui non abbiamo la palla di vetro quindi aspettiamo di assaggiare le prime bottiglie e poi decidiamo.